incontriamo nel nostro percorso italia boot festival incontriamo una casa di crisi che ha uno scopo preciso cioè quello di promuovere gli artisti sanniti la letteratura sannita quindi ringraziamo maria pia selvaggio con duemila e diciassette casa editrice fondata da lei ma maria pia soprattutto una persona come dire con tanti tanti aspetti perché scrittrice editrice e poi anche esperienze teatrali c'è un artista tutto tondo come si dice volgarmente come stai maria pia innanzitutto bene bene diciamo bene c'è un bellissimo sole oggi c'è un bellissimo sole qui oggi nel mio paese e questo propositivo si aiuta bisogna sempre essere positivi sempre essere propositivi senti il tuo progetto un sogno che si è realizzato adesso pur con le varie difficoltà eccetera però avevi questa cosa in testa e sei riuscita a realizzarla con le tue mani sì 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 è stato un sogno in effetti anche un po azzardato perché non è semplice insomma partire dal nulla poi e cercare di organizzare una casa editrice con con tutti i pro e i contro insomma anche il periodo non è favorevole l'editoria insomma vive un momento anche parte dalla tua dalla tua esperienza tu hai scritto nove opere più o meno mi sembra editate due proiezioni teatrali quindi hai pubblicato in sud america in lingua portoghese cioè hai lavorato con una casa di produzione importante una sceneggiatura da cui si è tratto anche la produzione di un romanzo insomma tante attività e poi ti sei ti sei come dire resa disponibile perché questo bastava già a farmi te una persona di una certa di un certo rilievo con certe responsabilità eccetera però il fatto di diventare editore vuol dire condivisione hai voluto mettere a disposizione degli altri la tua esperienza le tue capacità stimolando che altri possano scrivere e possano affacciarsi a questo mondo complicato sì soprattutto insomma mi sono guardata intorno ho letto e vivendo qui eh nel sannio eh quindi una sacca del territorio eh campano eh mi sono resa conto che eh molte menti ehm rimanevano diciamo chiuse in un cassetto molte opere chiuse in un cassetto perché eh ovviamente eh ci sono mille difficoltà mille timori paure eh pubblicare un libro per pubblicare un libro ci vuole anche molto coraggio e quindi eh per questo eh ecco io eh ho voluto fortemente ecco far sognare anche altre persone perché pubblicare eh eh e dare vita a un proprio sogno ecco come ho fatto io e eh ho messo su non senza sacrifici questa casa editrice che eh effettivamente all'attivo ha già una in tre anni una sessantina di titoli che non sono solo eh titoli eh legati al territorio sanita ma sono anche nazionali e internazionali abbiamo degli autori insomma americani degli autori indiani quindi questo insomma mi dà molto mi emoziona molto che emozione traspare la tua emozione e la tua passione per questo quindi da come parli da come la rappresenti eh gli autori di vario genere quindi dalla dalla saggistica al romanzo eccetera senza discriminazione alla poesia che sembra passata di moda invece è tuttora di moda eh e poi i racconti brevi che sono un po' la cosa che ti ti affascina perché nel racconto breve bisogna essere sintetici ma completi sì eh c'era proprio ehm nella mia idea di organizzazione delle case editrice c'era proprio una ehm collana dedicata a questo genere racconti brevi per il ripristino del racconto breve breves eh che eh considero eh una narrativa eh abbastanza eh complessa ed importante dico sempre agli autori che scrivere un eh racconto breve è come ricevere un pugno nello stomaco eh perché eh leggendo eh insomma deve essere così deve essere ad impatto breve ad impatto e deve emozionare assolutamente sì certo eh questo momento di difficoltà dell'editoria l'editoria ha sempre un po' sofferto però ci si era abituata alla sofferenza e l'aveva superato le sofferenze questo momento di di ulteriore difficoltà rischiava di far sgrenare un settore che è fondamentale invece nella nella vita dell'uomo cioè noi viviamo di pane libri libri sono necessari quanto gli alimenti voglio dire non possiamo non ci bar la mente di di letture di buone letture ehm si sta passando dalla virtualità alla realtà c'è questo miscelanio adesso siamo un po' eh un po' misti volgarmente parlando eh però credo che l'ho già detto anche in altre interviste ma lo voglio sempre sottolineare questo periodo di crisi abbia fortificato i rapporti i rapporti fra editore e autore cioè si è creato quel si è fatto squadra si è fatto famiglia con gli autori eh dove anche l'autore ha capito le difficoltà dell'editore e la responsabilità e la voglia di superare il problema dell'editore sì eh non è semplice eh ovviamente sì eh però è vero c'è stata una fortificazione e eh nel mio piccolo quello che cerco sempre di far capire eh agli autori è che dietro ad un libro dietro all'editoria c'è una squadra eh che lavora e eh il lavoro di squadra deve essere anche eh diciamo eh allargato all'autore l'autore deve entrare nel lavoro di squadra si deve rendere conto di che cos'è un eh un webmaster noi ne abbiamo uno in effetti bravissimo Luigi Morone di che cos'è una ehm correzione di bots che cos'è un editing insomma un impagno cioè c'è tutto un lavorio io questo cerco di eh trasmettere e di far capire eh l'editoria non cioè i piccoli editori non si arricchiscono mai perché comunque eh tante volte si ci eh rimette eh però ecco è bello è bello promuovere insieme la cultura promuovere insieme la lettura che è molto importante eh per i giovani ma anche per i meno giovani e e pane per l'anima così come dicevi tu insomma abbiamo bisogno di questo perché oggi non c'è ecco una eh spiritualità eh che ehm eh diciamo che è ehm delineato viaggia su trattori già ehm organizzati ecco noi abbiamo bisogno di costruircela individualmente questa spiritualità e la lettura eh aiuta molto. Senti da editrice riesci a essere comunque a continuare la tua passione di autrice? Eh non non si concilia diciamo non ho più eh negli stessi tempi ecco non non posso dedicarmi completamente perché eh quello che ho capito che gli autori è come se depositassero dei loro figli e quindi eh sono ehm ansiosi io ricevo telefonate messaggi insomma anche a mezzanotte dai miei autori però sono sempre disponibile perché appunto con loro è una squadra e ci lega anche una eh emozione ecco ogni volta che esce un libro per me eh è un'emozione un'emozione forte come per loro. Senti ci parli del tuo romanzo visto rimaniamo anche nel tuo tema come autrice il delitto di via Puccini? Sì eh questo è ehm è un romanzo che ehm è una storia vera effettivamente questo delitto di via Puccini che coinvolge il marchese Camillo Casati Stampa di Soncino e Anna Fallarino un delitto diciamo un primo femminicidio dopo il primo femminicidio diciamo italiano eh dopo che eh si era eh abrogata la legge sul delitto d'onore e eh avvenuto il trent'agosto del millenovecentosettanta ehm perché eh questo romanzo? Perché ha anche un legame diciamo eh territoriale. Anna Fallarino infatti era nativa di queste zone eh di un paese insomma era stata ospitata dagli zii in una storia un po' complicata e viveva qui eh ha vissuto per dodici anni qui eh in un paese a due chilometri ehm dal dal mio paese delle sederme quindi c'era la volontà da parte mia ehm di dare voce ad un delitto di cui ancora ecco risultano ombre e quindi e quindi come spesso succede nei chimicidi cioè eh a volte se non c'era una una dichiarazione evidente una situazione evidente si cerca di soprattutto in quegli anni lì e ricordiamo fu i primi sì negli anni settanta che sono eh stati eh effettivamente lo spartiacque uno spartiacque politico insomma con ehm sociologico economico eh quindi la generazione bit ehm eh ecco questo questa questa società ehm divisa fra ancora eh aristocratici e e eh e in effetti proletari abbiamo la nascita di di frange terroristi che ordini nuovi anni pesanti e importanti per questo senso da analizzare insomma e infatti io ne parlo senti i libri spesso eh portano a una trasposizione eh televisiva no con una visione cinematografica eh poche volte ci sono stati esperimenti però sono diventati anche delle proiezioni teatrali eh tu che ti occupi anche di questo eh sono due mondi diversi la il teatro e la televisione per l'amor di Dio quindi sono situazioni o il cinema non sono confrontabili perché sono le tempistiche no? La diretta rispetto alla sequenza cioè vuol dire eh al piano sequenza quindi la realizzazione di di clip eh ci sono secondo te comunque leggendo non solo nei tuoi autori in generale eh qualche libro qualche scritto che peccato non sia diventato un'opera teatrale? Certo eh ma ehm io penso a io penso che ehm c'è sempre una certa teatralità dietro gli scritti ehm e ehm credo che ehm un buon sceneggiatore riesca sempre a ehm ecco a tirar fuori un po' quella che c'è quello che è il il patos quello che ehm quello che emoziona ed è ed è anche eh e si presta bene anche eh ad essere un'opera teatrale a parte ehm diciamo i generi dedicati come il dramma di cui noi abbiamo insomma abbiamo pubblicato un dramma ehm anche quindi sì ci sono delle opere che si prendono bene bene senti io ti ringrazio di questa bellissima chiacchierata mi ha fatto piacere conoscere la tua casa editrice conoscere te innanzitutto conoscere il vostro territorio conoscere tutto quello che un editore fa per eh per la sua per la sua famiglia per i suoi autori per i suoi collaboratori perché è un lavoro capillare quotidiano H24 come si usa dire adesso eh che non ha mai fine ma supportato da una grande passione da un grande cuore che ogni editore ha insomma quindi soprattutto le più piccole case editrici vivono di emozioni e di sentimenti insomma. Io veramente ringrazio anche questa organizzazione di Italia Festival Fiera Book perché ci ha dato la possibilità in questo periodo eh limitato eh ecco ehm da questo virus che è complicato e speriamo finisca subito ci ha dato la possibilità di questa vetrina e io invito in effetti anche tutti i miei autori ad aderire proprio perché eh ecco c'è ehm almeno ehm trasmettiamo eh attraverso eh ecco comunichiamo eh in un altro modo ma rimanere in contatto e e scambiarci le nostre opinioni quindi la visibilità va mantenuta e va salvaguardata perché tutti abbiamo bisogno uno dell'altro quindi la cultura va adattata al momento e la cultura che deve andare verso eh il mondo in questo momento ecco e quindi benvenna e vi ringrazio ringrazio anche te insomma per sei così professionale e mi hai messo veramente a mio agio io che sono insomma risaputamente timida. Hai superato l'esame ma l'avevi già superato l'avevi già superato scrivendo quello il coraggio più grande. Grazie davvero un grande abbraccio e avanti con la lettura e buona lettura a tutti. Buona lettura grazie. Un bacio a tutti. Ciao.